Allora, vedo uno sopra di me, che mi sembra indirizzato allo stesso identico posto No, ha virato, ha virato, ok Credo, sta facendo un giro larghissimo, non so se poi voglia scendere qua, eh Forse sì, forse sì Sì o no? Hai deciso? Vabbè, io me ne vado qua, mi prendo la cesta Ok, sì, è andato alla fine, alla fine, alla fine, alla fine, 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 fine Nella parte destra Perfetto Ok, qua c'è subito la cesta La balestra, ma che bella Ovviamente sono ironi Sembri felice, Feria? Sono ironi Lo so Perché altrimenti mi metto a piangere Sai che ho trovato un medikit, poi entro qui dentro e c'è un altro medikit Perché ci siamo lamentati che non c'erano cure Quindi mi sembra giusto essere ripagati in questo modo, Steph Dai un'arma Ok Scillini, grazie, grazie Ne abbiamo visto uno, non due, vero? Sì, ne ho visto uno Ok, vampa a fucile verde, quindi non male Non male Butto questa pizzola che fa davvero schifo Ok Eh, sì, però era solo uno Ma ci sarà anche l'altro Probabilmente è sceso in ritardo, robe del genere Ok Quasi sicuro sarà sceso in ritardo Ok Ok Qui non c'è nessuno Ah, no Ok, sto vedendo ora, Steph Ha fatto... Vedi? No, non vedo Non hai capito, ha fatto una rampa lunghissima verso la montagna Quindi penso che se ne sia andato, eh Ah Non l'abbiamo fatta noi È andato alla fabbrica dei gabinetti Sì, sicuro Ok, ci sta Ci sta Eh, probabilmente è solo, capito? Grazie mille, Filippo Tomain Avete trovato il nuovo pompa? Sì Prima di fare la live in un game E la cosa ironica è che abbiamo provato Tipo io, soprattutto la mattina, a trovarla per tipo un'ora e mezzo e niente Dopodiché un game, ammazziamo dei player e ne avevano due E quindi abbiamo preso uno, io e una fede, l'abbiamo provato entrambi Ed è stato per di più un game molto interessante Che abbiamo registrato senza commentare Perché stavamo semplicemente giocando Quindi non eravamo in modo di fare un video E magari poi ve lo faremo vedere quando capita Perché comunque abbiamo fatto un botto di kill Solo io ne avevo dieci, fare mi sa che ne aveva altre quattro Quattro, quattro Eravamo ben piazzati Quindi era davvero un game interessante Infatti l'abbiamo provato bene Eh sì, peccato E avevate ragione, è fortissimo Davvero, davvero Oh no, il fucile è bellissimo A me è piaciuto Cioè vabbè, a parte che è forte, forte, forte Però anche per sparare è bello, è bello Molto interessante Quindi ci sta Un'arma nuova che hanno aggiunto che secondo me ci sta Qua non ce ne accetta Ma sicuramente verrà nerfata Secondo me verrà nerfata Io adesso non ho la certezza Ma suppongo che andrà in questo modo Pi, 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 pi Ok, che vuoi fare, Steph? Allora, finisci di lutare quello se non l'hai ancora finito Ok, no, mi manca solo il pieno di sotto Ok, poi manca questo edificio Ce ne possiamo andare Ovviamente dobbiamo stare attenti al tipo Che sinceramente Andiamo a cacciare il tipo? Sì, io infatti pensavo di andare da lui Non sono messa così male Ho comunque due medikit Uno shieldino Buoni colpi Quindi perché no? Magari lui è andata male L'ha usato poco No, vabbè, poi soprattutto se uno È morto a priori Mi è venuto un micro Beh, contando anche che è scappato Io suppongo che sì sia uno, Steph Che appunto se ne sia andato Perché era solo E quindi O magari l'amico era lì Non lo so Non lo so, andiamo a vedere Ok Ricordati che ho sei cillini extra Quando serviranno Muoviti, Steph Dove sei? Esci da qui, dai Mancava l'ultima cosa Dai, andiamo Legna Voglio Io me ne vado senza di te Ciao Legna Ok, fatto Ok Allora Quindi noi sappiamo che è la fabbrica dei gabinetini E andiamo lì a rompere i gabinetti Eppure a lui Esatto In contemporanea Ok Allora sto guardando Ho sbagliato strada, Steph Non mi ero resa conto che era dall'altra parte E per rompe Potevi iniziare ad andare Che tanto ti avrei anche superata Allora È un po' triste sta roba Visti E sono due Ok, ottimo Io me ne frego 30 di shield 30 di shield Rotto lo shield Quindi ne va solo 50 30 di shield all'altro Ok, io ho tolto 29 a 1 Non so a chi dei due, però Ok Aspetta un attimo Non ci arrivi Ci provo Non rompere Occhio che stanno a sniperà Eh, li ho sentiti Gli ho sentiti È come se li ho sentiti Peccato che non ci arrivo Alla paura Eh, boh 30 di shield È un po' fastidioso Sparare col vampa a fucile Quando devi distruggere Le strutture Perché non fa minimamente danno 30 e 30 di vita Ho visto, ho visto, ho visto Ok, cerco di colpire Coprirmi perché Dai Non vogliamo finire i colpi Ho provato a cecchinarmi Dai, ragazzi Non state lì A sniperà È noioso Vediamo se ci arriva qualcun altro No, non credo Colpito 29 Bravissima Adesso punto l'altro Allora Mi riparo un attimo Alla struttura Sembra che stia iniziando A panicare un po' Eh, perché non sono riuscita A sniperare Forse gli ho messo Cavolo Devo ricaricare Ma sono scappati malissimo Stef Ma gli facciamo il giro Tipo da questa parte Facciamo il giro Anche perché Non posso faitare A rompere tutto Qui c'era un pompa blu Non l'hai visto? No Ma io ce l'ho viola Ok Eh, no vabbè Il discorso ho finto i colpi C'è ne ho 14 Eh, anche io ne ho 54 Non potevo stare A Cioè A sprecarli così Vabbè Per persone che scappano Allo Stef Non si cade così Mi fanno venire nervoso Porca miseria Ma che Vabbè C'è chi gioca a scappare Che ti devo dire Ma dovevi prendere Ok Eh, è triste Stef È triste È depresso Gli ammazziamo Hanno finito i colpi Hanno finito i materiali E quindi non ti servono Niente a nulla Come cadaveri Capisci E che ti devo dire Se scappano Scusa non scappare Allora comunque Li incontreremo alla sedia Allora pensano Oh li abbiamo seminati Boom O magari boom Verso di noi Sì può essere però A priori io sparo Proprio di pompa A priori Anche se sono lontani Ok Con l'altro pompa Ce la faresti Sì è vero È vero Ce la faresti Ce la faresti Ok Ok Sì sì sono qua Visto uno Ah guarda sei prevedibili Non vogliamo nulla Dove siete Dove sono? Arrivò Stef sta già facendo disastri Uno a terra Uno è morto Please Correte di nuovo Correte di nuovo E questo non c'aveva Nulla Nulla Questo è un fucile Da caccia blu Se proprio lo vuoi Comunque l'M16 Lo preferisco Quindi me lo prendo Ah no in realtà Mi aveva colpi L'M16 Bravo Allora va bene Ok Tutto a posto Allora ok Ok va bene così Va bene così E quanti colpi hai? Si dimenticano sempre Le cassettine dei colpi 96 Ah sì siamo lì Ok Perfetto Colpi del pompa Ok Che poi non avranno lutato Tutto 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 Dobbiamo capire se hanno lutato Il fienile Quello piccolo piccolo Allora qui ci sono colpi No non hanno Sopra la sedia Non vedo se c'è qualcosa Ok Qua hanno lutato Ok Vabbè mazzo comunque ne ho Ci spostiamo? Sì beh certo Quanto siamo lontani È tanto Stef Sì Tanto tanto Ci conviene andare Ce l'hanno rovinato sto game Ma no dai L'hanno rovinato L'hanno rovinato Vabbè Stef Dopo che scappano così Che fai non gli insegui? No certo Perché ci facevano ancora qui A luttare con la zona Che è molto lontanissima Quell'airdrop È la nostra speranza Andiamo Ok Let's go Sai cos'è il momento giusto? No Non devi mangiare Stef Comunque sto messo anche Abbastanza bene A livello di materiali Pure te Quindi è ottimo Stef Non hai ancora guardato La mia nuova skin Ma l'hai regalata tu Adesso c'è un airdrop Ma c'è anche la mia nuova skin Ops Ah Pensavo ci fosse qualcuno Che cavolo ti spari? Sto tenendo il mouse Con il polso Non è una buona idea Sparano Già una nuova Ci tocca a fai dare Sì 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 Ok Vampo a fucile Eh lo sento Stef Non c'è bisogno che me lo dici Grazie Sotto questa collina? Sì Si carica? Sì Sì Voglio fare un sacco di killage È un sacco di vittorie Dove mi hanno sparato? Non erano quelli Colpito colpito Bravo Blitz A me non è andata molto bene L'ho fatto un po' male Sto fight Eh Vampo a fucile blu Che mi sono preso Allora Mi devo tirare degli shieldini Un medikit Ok Ah c'è anche un altro qua Tanto gli slot Ok Ah Ops Ok Riesci a prenderlo Tu vuoi un lanciagranate? Eh sì Ok Tanto lo slot Ora come mi uso il medikit Ci dobbiamo muovere per la zona Lo so Dammi un secondo Che mi finisco il medikit E ci sono Viamo a queste Stradivertenti Andate a parco con Solini Dopo ci andiamo Appena c'è un bel taglio Ci andiamo Ah si ricordano ancora Bello Eh ovviamente Da quando iniziate la live Da 25 minuti Quindi ciao a tutti quelli Che stanno arrivando adesso Stiamo giocando Per cercare di vincerci Un po' di game Ne abbiamo fatto una Abbastanza interessante all'inizio Ma poi abbiamo avuto Molta sfiga E a livello di loot Ci sono venuti ad ammazzare E adesso invece Abbiamo perso un sacco di tempo Contro un team Però abbiamo recuperato Con queste due kill Quindi ora siamo Abbastanza equipaggiati Oh cavolo la zona Oh cavolo Corri Sono lontana Seguo la linea Seguo la linea Vai nei tre mediki Tu va Nel caso Eh perché erano pieni quelli Capito Eh lo so Però erano pieni quelli E il cecchino raga Non me ne frega nulla Sto usando il fucile da caccia Sia perché è molto interessante Sia perché lo voglio imparare Quindi so che c'era Anche un cecchino leggendario C'era di tutto Però Pazienza Quindi era volutamente Lasciato lì Allora P-p-p-p-p-p-p-p Arrivo Forse riesco a non prendere danno Sì Siamo tranquilli Faccio Alla grande Ovviamente Siamo capitati Ad entrare in zona Dove c'è un altro airdrop Quindi Di sicuro Stiamo attirando bei guai Ok Senza volerlo Ma sì che lo vogliamo Dipende Vogliamo i guai noi Possibilmente qualcuno senza shield Con 40 di vita 10 di vita Vai 10 Sì Visto uno Fermo Dove? Ah peccato A nord nella casa tutta rotta Ok E accidenti che pista Non l'avevo minimamente visto comunque Ok Allora Prendi l'airdrop No pazienza Eccolo A uno Ho tolto tutto lo shield Quello di destra Ok L'altro mi hai toccato Io non ho troppi colpi Quindi non mi voglio sporre Troppissimo Rompo io l'albero Ok brava Non ho troppi colpi Neanche lì ma Sembra che stiano scappando Anche questi Fer Oggi in nascondino Abbiamo giocato Uno perlomeno è scappato Di brutto E anche l'altro Sarà scappato Perché ha abbandonato Quello del suo team Sì E sono andati via Aspetta Ti colpisco pure da qui Maledetto Sì Che noia però Dai E fatelo un fight Ma siamo in uno sparatutto Non siamo a nascondino qua I didn't seek Stiamo giocando Eh vabbè Vabbè Controllando un attimo Ma cosa Io eviterei di inseguirli Stavolta Cioè non mi voglio Siamo comunque pochi Siamo solo nove Non mi voglio mettere fuori Inseguiamoli Ma non mi voglio mettere fuori posizione Inseguiamoli Ok E poi sono andati dentro la zona Quindi comunque Dobbiamo andare lì per forza Ok andiamo Siamo pochi eh Siamo pochi Sì l'ho notato Ciao possiamo fare Potrebbe essere la prima win Della giornata E quel RPG leggendario Da una mano A sperarci Su carichi 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 Allora Faccio io le scale Ok Ok Sembra che abbiano billato lì Se provano a sparare anche solo un hit Volo E gli tiro Sto cavolo di colpo di razzo Ok Che le ne basta la metà Cavolo Ok Dove sono Ah beh si sono riparti Perché avevamo paura di essere ritati Ovvio 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 Sanno nascosti dentro una casa Trappola dentro la casa Hanno eliminato qualcuno così? No L'hanno appena piazzata Sono pronta Sono loro L'altro è qua sotto no? Ha entrato di nuovo dentro casa Morto Occhio perché c'è la trappola Ok Scarepico Da questo Voglio voglio Oh Oh l'uovo pompa Oh mio dio Vai Steph Devi farla kill Devi farla kill Devi farla kill con l'uovo pompa Pensa stare attenta che Fere c'è un altro Dove? Qui dentro Aspetta che qua facciamo così Ah ma di fucile a pompa Eh vabbè ma oggi è il mio compleanno Ok Cillini se li puoi prendere Ah no vabbè tanto è uno l'ho preso Sì ce li ho ce li ho ce li ho Ok Ma tipo dov'è? Cosa? Nascosto Fere è morto Ah ma quando l'hai ucciso scusami No mi è sfuggita sta roba Mi hai fatto gas aprire il pompa E non mi sono resa conto di quando è morto Vabbè È morto lo sapevo e stavo scherzando Ah Bello scherzo Steph Ti sei divertito Vi siete divertiti tutti qua Basta Sparano Basta sto zitta 30 gradi dice chi no Ok Questa casa non c'è nessuno Trampolino niente Che sono pieni di colpi Pieno di materiali Quindi sono messo abbastanza bene Anche io Ok Dobbiamo scoprire la posizione Hanno smesso di sparare E non è morto nessuno però Esatto Meglio Allora sei Quindi due team Potenziale Di fronte a noi due Li vedi? No Dimmi quando ci sei Ok ok Devo andare un po' più in alto Sì Colpito 35 Ricarico Uno è morto vero? Sì sì Anche perché gli stanno pure lanciando missilate addosso Steph All'oro Ma poveri Stanno stramissilati Dove è finito l'altro? È lì che lo massacrano Pensa all'altro team Fere Sì 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 Occhio a non farti snapperare No certo certo Sto facendo molta attenzione Ho distrutto anche un po' di alberi Per cercare di vedere meglio Fatto crollare tutto Ma è qua È qua Ok morto Cavolo era mio Scusami faremo Non volevo perdere tempo Ho colpito un botto No certo sto scherzando Però l'ho colpito un botto Accidente Ci sta ci sta Se ti servono colpi Ah no Ok sei tranquilla No no sono tranquilla Ok muoviamoci un po' Perché siamo fuori dalla zona di brutto Ok E questo è uno shield grande Quindi lo prendo al volo Vai 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 Ottimo Io vado a luttare questo Sì Se riesco eh Riprendo ovviamente gli shieldini Veloce veloce Colpi 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 materiali E basta Non mi soffermo troppo Perché non è il caso Secondo me di stare a luttare Come cinesi Quindi Muoviamoci Ok Verso la zona Non prendo neanche lo shield Pazienza Perdo troppo tempo Siamo solo in quattro Voglio Voglio essere Fresca per la fine del game Tanto comunque ho tre medikit Non abbiamo idea di dove siano Neanche io Di fronte a noi Ok Ok Conviene andare in posizione Ok Io comunque mi sono costruita un pochettino Ok Giusto per ripararmi Oh cavolo cavolo Cercano di colpire Faccio il giro eh Perché se no mi prendono con i missili Ok eccomi Mi sta cagando senza di me Ma lo stesso Questo albero lì dà vantaggio Quindi lo rompo Ups Mi è partito un colpo Mi hanno aiutato una volta Ok Colpito una volta Cento di shield Uh bravo Ok Eh per me è questo missile Cosa? Sì 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 Aspetta C'erano missili belli per me qua Infatti Da Quanti ne hanno accidenti a loro No mi devo spostare Occhio Eh mi prendono troppo di mira Cavolo è difficile stare su questa montagna È tutta storta È loro accidenti Loro sono out position fire Concentrate adesso Ok Ci sono Ok Ricarico tutto Stanno sotto la colina Giusto per dargli un po' di fastidio Ma non ci arriva Peccato Cavolo Ok colpito 35 di shield Totti Ok Cavolo gli alberi Gli alberi Gli alberi Devo distruggere gli alberi Ok Una terra Steff Bravissima Una terra Ne manca uno Colpisci Colpisci Dai 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 Non lo deve restare Ci prova Ci prova Ci prova Non sappiamo dov'è Probabilmente lo sta arrestando Lì dietro Capisci Cavolo Hanno ribillato Sì l'avrà arrestato L'ho colpito L'ho colpito Brava Ok Non so quanto gli ho fatto Perché era un po' nascosto Dalla montagna il danno Però comunque l'ho colpito Ok l'ho colpito un botto Come si è esposto Per tirarti il razzo Bravissima A terra a terra Steff L'altro Quindi aveva arrestato l'amico E lì sopra Steff Ti copro Vai 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 Ce l'ho fatta Ce l'ho fatta Bravi Che ansia Io non ho fatto nulla alla fine Sì E io gli ho sparato Mi si Ha fatto tutto a fare Grazie 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 Steff Te l'ho detto che oggi mi sentivo in forma Il potere della pizza Perché sono felice che sto mangiando la pizza buona E quindi gioco bene Bravi 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 bravi